Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video con Vimy su Roblox! Quest'aggi iniziamo una serie di video che saranno incentrati con il clima del mese, ovvero il Natale, le feste, la neve e tutte le cose belle del dicembre. Notare che ho messo l'outfit a Vimy carino e rosso e quest'oggi come primo gioco di dicembre che porto, questo gioco si chiama Home Alone. Sì, esatto, proprio quel Home Alone. Mamma ha perso l'aereo. Saremo noi Kevin lasciato solo a casa? Forse. E vedremo cosa succederà. Direi di andare con il gioco. Voi lasciate mi piace, iscrivetevi al canale e godetevi il video. Perchè avrei un pipistrello? Lo lancio addosso a... Tutti sono così impegnati a prepararsi per questo viaggio. Guardate com'è fatta la casa! E' esattamente uguale! Certo, non pretendiamo, siamo sempre in Roblox. a Parigi. Siamo nel secondo film, eh? Esplora la casa, ok. Albero, già fatto. Cammino. Cammino. Vediamo un po' la casa. Tavola da pranzo. Ah, c'è il tempo! Aspetta! Non ho visto tutto. Cucina. Salotto. No, sala giochi. Sala hobby. Non ho visto di sopra. Dobbiamo fare le valigie? Va bene. Armadio? Ecco qua! Dovato! Questo? Eh, non posso andare di là. Pantoloni? Non c'è niente lì? Qua! Questi? Questi? E poi... Ah, non si poteva andare dall'altra parte. Tutto fatto! Ah! Mai! Ma è una mazza! Il vecchio allegro! Ah, l'anziano! Sì, ma non è che vi andi a dirlo! Allora è una mazza. Ehm... Ok. Mai mano l'ammazza. Ma come? C'erano le pizze nel film, no? Nel tacchino Vabbè Ho preso una coscia I'm out Bene E sappiamo cosa succederà Questo! Questo sarà il mio letto Non ti dimenticherai di lui Completamente Però è fatto bene C'è tutta la storia Più o meno Bene Io dormo qua Ho già prenotato Ah che bello Dormire Infossati nel letto Sono già a letto Dormire 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 Oh 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 Iladri Mar Oh Oh Bene Siamo rimasti a casa Trova gli adulti Non ci sono Sappiamo tutti che non ci sono La barriera Non posso neanche uscire Che adulto vuoi trovare? Il tacchino è la cosa più adulta che c'è adesso No No Lo scantinato Eccoci Dov'è la stufa Cattiva Eccolo Ha 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 Forno La stufa La stufa La stufa A legna Bene Ladri Siamo pronti Sì Possiamo fare tutto Guardarci La tv Ma io volevo vedere la tv Oh Oh Mmm Cosa è? Cosa è? Cosa è? Kevin Eva Ah stavolta Hanno dimenticato Tutti i figli Siamo tutti figli Dimenticati Aspetta ma non era lui Non è Marv che Che guidava Mi sembra Qualcuno ha sentito il rumore Sono i ladri Vogliono derubarci Dov'è? 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 Non era qua Eccolo Trovato Ma le trappole? Un'amn 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 Vai di trappole! Ehm, supermercato! Martello, colla, che cosa? Ah, ho trovato una cosa! Il martello! Ho preso il martello e cos'era? La corda? C'era un accordo un po'... A stecco, però! Andiamo a piedi! Va bene! Io sto seguendo Kevin! Ci seguono! Corri, Kevin, però! Corri! Non si vede più niente! Ok! Ehm, ehm... Ah sì, la corsa sul ghiaccio! Ma si è sciolto! Non era così, però! Va bene! Ma gli altri? E siamo rimasti in due! Va bene! C'è il tempo! Dai! Non devo cadere neanche una volta! Yeee! Ce l'ho fatta! Ehm... Kevin? Non sapevo che sapevi... ...telettrasportarti... ...ehm... ...Fa! Ehm... Jolly! Oh no! A me l'ha fatto dire Eh, gli do volentieri la mia coscia di pollo Dagli il dollaro Se vuoi ho anche una coscia di pollo se la vuoi La do volentieri Anche se ormai è fredda gelata Adesso? Dobbiamo prepararci Va bene Siamo in due Ce la possiamo fare Ah, così Uno alla volta Devo fare Non posso portarne più di uno No Ma dai, siamo in due Come vuoi fare Come vuoi fare? Come vuoi fare? Di qui? Accidenti Accidenti Non puoi farlo tu Kevin Dai Prepara la mazza Ma no Ma no Se n'è andato Sono rimasta da sola Tiro di la mozza in testa È così? Oh no Ah, mazza chiudata Ah, mazza chiudata Ah, 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 aiuto Aiuto Fammi Dove corro? Lasciami Aiuto 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 Fammi correre Kevin Aiuto Aiuto Sono solo una bambina innocente Con una mazza in mano Non posso dare di una mazza in testa Aiuto Ah Ma non si vergogna Stai inseguendo una bambina innocente Ah Dove sto andando? Devo scappare Per forza Spacca Spacca Eh Dove devo andare? Aiuto Ah 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 Cosa? Eh? Ok Ok Ho perso poca vita Quale? Questo? Ok Sono dentro Chiedi la porta Ok Sono nascosta Oh no Dimmi che non ci vede Io non mi muovo Perché sto andando sul tapirulan Ok Ok Sono pronta Non mi fa correre Corro Corri Corri Vimmi laggiù Scappa fuori Da qui No No Ok Di sopra Potevi farmi uscire dalla porta eh Va bene Oh no Eh Ragazzi Ah Cosa devo fare? Uccidi i ladri? Attento Ma sono i due Contro una Sono due grossi Comodi Aiuto Non mi fa andare giù Posso recuperare Vita con Una coscia di pollo Forse dovevo Prendere più cosce Devo Che faccio? Sono senza vita Fammi scendere Sì Mori Mori Toh L'ho buttata a terra Harry L'ho buttata a terra Toh No Sono senza vita Toh Sì Ma io sono senza vita Quale? Vai alla casa albero Non devo Non devo Eh Ok Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Chiamiamo la polizia? Ehi ladri Ehi ladri Chiamo la polizia Chiamo la polizia Oppure Oppure Uso questa forbice Ops Sì ma io sono senza vita Se mi acchiappano Muoio Oh no Greta Thunberg Si arrabbierebbe Non potete bruciare gli alberi Oh no Grazie È arrivato il signore Che ci ha salvato Visto? Le buone azioni Ripagano Sono Sono sopravvissuta Da sola Anche se in realtà ero A zero di vita Carino è stato Strano Direi che l'avventura È finita Bene Credevo che sarei morta Perso la fine Ma invece Si è risolto E le buone azioni Ripagano sempre E infatti Il signore che abbiamo aiutato Ci ha salvato Evviva Noi ci rivedremo In un prossimo video Lasciate mi piace Iscrivetevi al canale E Alla prossima Sempre con Vimi Ciao 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 Ciao